bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su fortnite ragazzi perché faccio vedere le nuove sfide dove si trovano le stelle dove si trova la stella nascosta e niente ragazzi come adesso non sto qui a ripetere le sfide perché come avete visto nello scorso video quello dove vi mostravo le sfide in anteprima le ho indovinate tutte praticamente e adesso vi faccio vedere dove si trova la stella nascosta comunque adesso vi lascio un po l'immagine qui sotto vi faccio vedere un po le sfide se non le avete ancora viste e niente adesso ci vediamo subito in partita eccoci ragazzi in partita nel frattempo che scendiamo devo dire anche un'altra cosa ragazzi sul fortnite sta per uscire anche il nuovo vampa fucile che poi vampa fucile non so non sappiamo ancora come sarà allora intanto questo non lo ammazziamo perché mi sta simpatico a meno che non ammazziamo anche lui vai dinoscoop eccola ragazzi questa è la nuova stella facciamoci una bella kill ragazzi niente mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate tanti like bella